Il problema dell'acqua ad Ortona è annoso, il sindaco Leo Castiglione non ce la fa più e quindi ancora una volta, anche questa volta ha scritto al prefetto, insomma la situazione è difficilissima. Sì, i cittadini non ce la fanno più perché ci sono zone ancora senza acqua dopo circa una settimana e ancora ad oggi, anche questa mattina, ho ricevuto segnalazioni di famiglie che sono ancora senza acqua. Parliamo di famiglie con bambini, con anziani, quindi immaginiamo che grande disagio che stanno vivendo alcune famiglie. Purtroppo le zone interessate sono tante, si sta tornando alla normalità in alcune zone ma molto lentamente, in altre invece purtroppo l'acqua ancora arriva. Ecco, qualche zona vuole indicarla? Sì, questa mattina ho ricevuto segnalazioni da Villa San Tommaso, San Nicola, da Carlone, la zona industriale, la zona di stamattina ho ricevuto una telefonata da Micoperi che è seriamente preoccupata per quanto riguarda le alghe che hanno loro e che hanno due giorni di autonomia ancora con grave disagio e problematica proprio a livello economico perché la mancanza di acqua non permetterebbe a questa azienda di continuare l'attività ma così come altre aziende. Io veramente sono stato costretto dopo tanto tempo, dopo sollecitazioni, dopo che sono intervenuto anche perché qui a Ortona c'è una situazione di congestione tra ACA e Sasi che purtroppo porta a questi disservizi. Noi da tempo segnaliamo che non è più possibile questa congestione, o torna il servizio ad ACA o torna tutto a Sasi perché ci deve stare un unico gestore. Il problema è nato proprio dal serbatoio Croce di Bavi che ha visto il livello completamente scendere a zero e da lì poi sono nati altri problemi che hanno portato anche a delle rotture successive, delle tubazioni, tubazioni ormai vecchie, vetuste, che purtroppo non vengono sostituite. Insomma la crisi idrica è il primo problema ma a questo va collegato sicuramente una cattiva gestione che oggi si è rivelata inefficiente e purtroppo a pagare sono sempre i cittadini. Il sindaco fa il proprio dovere ma qui ognuno deve fare il proprio dovere altrimenti veramente la situazione rischia di esplodere.